Grazie Consigliere. Toto, perdonami, ero distratto. C'è una proposta di sospensione? Non ho seguito l'ultimo. Questa l'ha chiesto dopo, Presidente. C'erano altri interventi. Io non ho altri interventi. Se siamo d'accordo, pregherei il Sindaco di chiudere questo punto. Se non ci sono altri interventi. Grazie. Colleghi e colleghe consiglieri. L'ordine del giorno porta questa richiesta da parte dell'opposizione di una verifica sulla situazione politica amministrativa di questa giunta e di questo governo regionale e di questa area di governo che rappresenta oggi, nella mia persona, il Sindaco. Credo che questa richiesta sia stata fatta qualche tempo fa, cioè prima che il Consiglio Comunale abbia assolto all'approvazione di quel documento tecnico-politico che è l'assestamento di bilancio. Allora, la cartina di tornasore dello Stato di salute di questa amministrazione è legata a quel documento, a quell'atto approvativo da parte della maggioranza, una maggioranza autonoma, che qualcuno ha voluto contare abbandonando l'aula e che era una maggioranza compatta, autonoma, autosufficiente. Questo è il termometro istituzionale di questa amministrazione. Quindi un termometro di salute, né di angosce, né di ansie, né di debolezze. Il Sindaco è agile e ardente e non intende assolutamente gettare la spugna. Detto questo in termini molto chiari, entriamo sul capitolo delle rilevazioni e delle sollecitazioni. Ripeto, l'approvazione di quell'atto stabilisce due condizioni istituzionali e finanziarie. La compattezza autonoma della maggioranza è un bilancio in equilibrio. Questi sono i due punti cardini perché una maggioranza possa continuare ad operare. Detto questo parserò per flash alle osservazioni e alle valutazioni. Primo problema, tassazione. Vorrei ricordare a tutti i consiglieri e anche a chi ci ascolta che il Tar Basilicata non ha condannato il governo De Ruggeri. Ha condannato l'amministrazione comunale nella sua continuità dal 1 gennaio 2015 al 30 luglio 2015. E come è stato detto da qualcuno correttamente, in quella sentenza del Tar, i magistrati amministrativi hanno chiaramente scritto che sarebbe anche toccato alla giunta uscente, cioè alla giunta a Duce, l'obbligo di approvare Tari e Tassi. La giunta ha avuto cinque mesi di tempo per fare questa operazione. Il governo De Ruggeri ha avuto 16 giorni in una condizione di impossibilità tecnica a realizzare un adempimento, chiamiamolo, normativo. Ma la cosa principale è che uno di quegli aumenti di cui noi oggi veniamo accusati fu deliberato con una giunta dell'aprile 2015 dalla giunta a Duce. Allora non si può assurgere a Torquemada disinvolti o a assumere a Tribunale della Inquisizione quando ci sono scheletri ancora vivi negli armadi di questa opposizione. Gli altri problemi. il problema dei rifiuti. Caro consigliere di Cinque Stelle, il problema dei ritardi del bando sono legati a due fatti obiettivi. il lento direi quasi fastidioso ma obbligato perché noi abbiamo il ruolo di capofila di aggregazione dei comuni nell'ambito. E poi la nuova disciplina su Riappalte che ha dovuto far rivedere un capitolato che era già pronto. questi sono i due elementi però io posso dire che sostanzialmente oggi il capitolato di gara è pronto e potrà essere portato all'attenzione del Consiglio in tempi rapidi non appena finisce questo periodo ovviamente di rarefazione dovuto alle momento feriare che stiamo per incontrare. Quanto arresto si parla di mancata programmazione ma soprattutto si parla che questo governo non riesce a catturare lo zefiro per far gonfiare le vele ma come si fa a far veleggiare una nave se questa nave è stata rinvenuta con falle che ne hanno appesantito il veleggiamento come qualcuno ha detto noi abbiamo trovato un disavanzo di quasi 5 milioni di euro non appena ci siamo insediati perché perché nei primi 5 mesi praticamente era stato risolto il problema del legato al pagamento di tutte le fatture comunali del 2014 sospese e di tutte quelle del 2015 senza creare quel rapporto che ci stava portando al disavanzo e quindi al mancato adempimento e rispetto del patto di stabilità quindi non possiamo noi ritenere che questo nostro momento di maggioranza e di governo possa soccombere alle giaculatori rituali che vengono poste all'attenzione di questa amministrazione nel consiglio comunale perché quali erano queste falle di questa nave su cui noi siamo saliti una città capitale europea della cultura che non aveva un ufficio culturale una città capitale europea della cultura che non aveva un ufficio turismo una città capitale europea della cultura che non aveva un ufficio cinema una città capitale europea della cultura che aveva neutralizzato distrutto abbattuto l'ufficio sassi ora mi chiedo perché queste cose non sono state ravvisate nella precedente maggioranza e nella precedente giunta cosa ha fatto questa maggioranza e questo governo resosi conto di questa situazione difficile ogni tanto c'è qualche distrazione qualche momento di nevrosi mnemonica abbiamo fatto una cosa più elementare abbiamo fatto quel consiglio comunale insieme in quel consiglio comunale insieme abbiamo approvato un ordine del giorno ma una volta tanto siamo orgogliosi di ciò che abbiamo fatto insieme quell'ordine del giorno di questo consiglio è diventata legge della Repubblica Italiana ma possiamo sempre dimenticare ciò che di buono abbiamo fatto insieme e sulla base di quell'ordine del giorno noi abbiamo avuto quelle deroghe e quei finanziamenti ma come io dico da noi per questo groviglio normativo che ci assedia e ci assale quotidianamente noi arriviamo sfiniti non al suo traguardo ma ai nastri di partenza per esempio le risorse del Ministero dei Beni Culturali sono lì pronte confezionate per arrivare a Materno ma prima prima debbono passare dalla definizione di un disciplinare tra il Ministero e il Comune disciplinare già pronto concordato definito ma che adesso è all'attenzione di Cantone cioè noi in questa nostra società abbastanza disinvolta abbiamo trovato il sistema di non prenderci mai le responsabilità e quindi abbiamo affidato ad altri e adesso l'ANAC è diventato un super ministero per cui cari colleghi dell'opposizione che dovete anche essere cauti nel fare le vostre segnalazioni all'ANAC perché non è che voi potete disinvoltamente denunciare fatti senza poi non incorrere nell'abbraccio mortale di qualche norma del codice penale allora si pensa che l'ANAC sia il toccasana del mondo è diventato un super ministero dove ci sono più carte che pareri e dove per arrivare un parere credo sarà come la Cassazione ci vediamo fra 40 anni questo è il livello di una Repubblica che non funziona e allora per entrare nei ranghi noi abbiamo fatto in un pubblico incontro l'articolazione degli interventi e con quei fondi noi faremo e attueremo quello che è stato programmato nel bilancio comunale prima fra tutti quello che noi abbiamo detto in questa sede l'attuazione dei parchi tematici sulla storia dell'uomo l'attuazione dei luoghi della produzione culturale e soprattutto noi realizzeremo interventi di recupero e di restauro nei sassi e soprattutto attiveremo con altri 5 milioni che siamo riusciti a catturare grazie a un disinvolto cowboy che pare che acchiappa farfalle sotto l'arco di tito altri 5 milioni che ci consenteranno di intervenire nei quartieri questo è quello che si sta facendo ma con quali forze non abbiamo trovato diligenti non abbiamo trovato strutture operative non perché non ci siano persone di qualità ma perché c'è una scarsità di presenza e allora ecco l'ingegno che viene poi volgarizzato in un razzismo stupido di autarchia materana ma è mai possibile che noi l'unico sistema che avevamo per non perdere i 500 milioni per il 2016 è stato quello di poter attingere alle graduatorie lucane ancora valide è un peccato mortale che venga a lavorare nella città di Matera un disoccupato di Ruvo del Monte è un peccato mortale che nella città di Matera venga a lavorare una signora di Avigliano ma dove siamo? Siamo nel ghetto del razzismo o siamo in una città europea? Dove siamo? Questo fervore lievitante del livore di una appartenenza che è solo strumentale per colpire a morte un sindaco che non morirà mai se non qui in Consiglio Comunale quando voi mi darete la sfiducia che io accetterò col sorriso perché la democrazia è anche fatto di questo allora amici vediamo di raccogliere una dignità umana prima di essere portatori di queste iniziative che creano quel ribellismo integralista che non ci appartiene come è mai possibile riproporre il tema di un livore di campanile non vengono assunti i materani perché non vengono assunti i materani perché in questo comune non si fanno concorsi pubblici da vent'anni questa è la ragione per cui vengono gli uomini e le donne disoccupate lucane a lavorare nella sede lucana di materia ecco perché non è pensabile non è possibile cadere in questi modi di comportarsi e di assumere posizioni vedete chiudete gli occhi e vedete chi furono e chi sono stati gli ideatori e i protagonisti della sceneggiata macabra in piazza vittorio veneto persone che ovviamente hanno ritenuto per un problema di trasparenza di perdere privilegi personali ecco che io non mi allarmo di quel movimento quel movimento è solo un volgare triste episodio di gente che celebra il proprio compleanno il 2 novembre sono necrofori portatori di morte non portatori di vita allora questo è il livello di una città che non può essere avvelenata quotidianamente quando noi abbiamo percorsi diversi e migliori e poi un passaggio obbligato sulla fondazione mi sono stancato la fondazione è un soggetto che è nato male che è un soggetto incoerente col livello e con l'obiettivo ecco la missione che deve attivare innanzitutto ecco voi che invocate con vostri esposti sottoesposti e controesposti cantone vi siete dimenticati che in quella operazione è stata violata la legge del cantone per cui il sindaco il presidente del consiglio regionale della regione il presidente della provincia erano incompatibili ma c'è un passaggio invocate la trasparenza e il rispetto delle norme per cui voi infittite con le vostre missive la segreteria generale e i nostri tavoli mi chiedete come è stato nominato il direttore generale c'è stato il rispetto della trasparenza cantone nella nomina del direttore generale che doveva essere nominata attraverso un bando pubblico attraverso una short list è individuato dal consiglio di amministrazione allora cerchiamo di non fare come ho detto l'altra volta i portatori di verità quando vi avete nelle vostre esperienze scelte e azioni che di questa trasparenza sono valori di negatività e poi l'ultima questione su questo aspetto stanno scemando le presenze turistiche non è che scemono le presenze turistiche il pullulare incomposto di bed and breakfast di case vacanze e di altro ha creato ovviamente una diradazione di presenze negli luoghi di ospitalità del turismo e allora come mi permetterò di dire a qualcuno quando lo incontrerò fra qualche giorno il turismo non è un settore di attesa il turismo è un'industria e il turismo è un'industria che va promossa e va promossa soprattutto da coloro che godono del reddito che viene dal turismo è finita l'epoca di aspettare il paracadute istituzionale la promozione è uno dei ruoli e degli investimenti di chi fa attività produttive e allora cara amica Rubino preparati a fare un altro viaggio in Cina perché a metà settembre noi parteciperemo al forum internazionale UNESCO in Cina dove dovremo andare a calappiare e a catturare fiumi di milioni di cinesi che vengono in Italia e che porteranno qui da noi altre presenze e altre presenze questo è il livello quindi voi mi permetterete un'ultima piccola divagazione caro consigliere Trombetta tu hai fatto l'elogio dell'assessore Prete hai detto che il che il ufficio opere pubbliche è un ufficio che funziona che ha dato possibilità come qualcuno ha detto come Mario Morelli che in termini di sorpresa anche regionale sono stati utilizzati tutti i finanziamenti per quasi 15 milioni di euro del fondo di sviluppo e coesione senza perdere un euro però mentre voi fate l'elogio pubblico poi create le condizioni di allarme attraverso esposti attraverso denunce attraverso segnalazioni allora non si può giocare al doppio ruolo o siete nemici o siete amici e quindi il problema è tutto qui se si vuole entrare in un disegno di compatta armonia non è pensabile di poter poi crucifiggere e inchiodare a responsabilità che sono inesistenti protagonisti di quell'efficienza di cui voi andate a conglomutarvi con l'assessore detto questo il problema del capodanno a Matera vedete io ho letto chiaramente la delibera 1616 della giunta regionale e finché questa delibera non viene cambiata il capodanno di Matera deve per scelta regionale farsi a Matera perché se voi leggete la convenzione posta al punto 2 del allegato 2 della delibera si parla di un programma che è la RAI ha definito con la regione per gli anni 2015 2016 2017 2018 e 2019 e al punto C della convenzione si dice che per realizzare il programma 2015 2016 2007 sceglie di comune accordo una location a Matera e quindi è il programma che sceglie una location a Matera quindi Matera è già la scelta della città quello che può variare nei sei anni è il luogo dove fare e quindi il luogo del 2015 era piazza Vittorio Veneto finché non viene chiamata modificata questa delibera noi dobbiamo soltanto attendere le scelte e poi sapremo chi sceglie e chi non sceglie all'interno della regione nella quale ovviamente io personalmente non ho possibilità di incidere se non attraverso questo segnale istituzionale che parte oggi dal Consiglio Comunale e che è partito in un'altra situazione in un incontro pubblico fatto in Venosa ma quello che io sento il dovere di dire le delibere possono essere cambiate laddove la delibere dovesse essere cambiata e quindi viene fatta un'altra scelta territoriale che cosa cambia e questo è il problema che io pongo alla regione Basilicata cambia il livello della ricaduta economica dell'investimento fare un investimento a potenza e fare un investimento su materia la redditività di questo investimento è la stessa o veramente era stata scelta materia perché era quella che dava il valore aggiunto il valore esponenziale per aggredire e aggregare maggiore attenzione non solo fisica quella sera ma nella promozione del territorio a livello internazionale perché quella trasmissione è internazionale perché noi abbiamo avuto dopo l'evenimento segnali dalla Nuova Zelanda dall'Argentina dal Canada dall'Australia dal Peru dal Brasile di gente che aveva visto Matera e si era animata di una curiosità positiva per questa città quindi quello che cambia all'interno di questa scelta è se l'investimento è corretto o non è corretto oppure se quell'investimento fatto avrà una minore ricaduta rispetto all'investimento che Matera poteva esprimere però al di là di tutto questo con altre iniziative diaboliche come fragili o melanconici ricorsi al Tar questo governo insieme alla Camera di Commercio e insieme alla Curia Materana ha messo a punto un comitato per il Natale a Matera che sarà il comitato della trasparenza ecco il comitato cantone e che quindi non potrà più in semini di barchetta magica o di applauso privilegiare qualcuno attraverso che cosa attraverso un bando e bandi per aggregare iniziative produttive e iniziative chiamiamole anche gioiose e soprattutto religiose per il Natale a Matera questo è lo scenario che ci sta dinanzi e allora di fronte a questo scenario il sindaco di Matera malgrado i suoi 81 anni è in una condizione di totale tranquillità non posso dire serenità perché la serenità è rischiosa però posso dirvi che è in totale tranquillità e le dimissioni dell'amico Stefano Zoccali sono un'edimissione che possiamo chiamarle psicologiche personali su cui non sto io a indulgere ma che posso garantirvi che al di là di quale sarà la funzione di Zoccali nel futuro Zoccali rimane un amico personale e una professionalità che potrà dare molto ancora a questa nostra città e a questo nostro comune per cui voi dovete perdonarvi se molte volte mi sono lasciato andare su valutazioni che potrebbero anche essere corrosive ma ogni tanto permettete che il sindaco esca fuori e esprima anche una furore umano in questo consiglio comunale però chiuso il momento del furore cerchiamo di riconnettere i rapporti cerchiamo di ridurre le tensioni cerchiamo di neutralizzare i pettegolezzi e cerchiamo di lavorare tutti insieme per questa città grazie 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 grazie